eccoci qua andiamo a fare l'unboxing di questo ennesimo fantastico drone che mi è appena arrivato sempre della potensic modello f 188 v un mini drone subito anche dalla scatola che si apre molto facilmente e veniamo subito accolti dal libretto di istruzioni e da una saccoccia che mantiene il drone nella scatola poi abbiamo la batteria l'unica batteria del drone il set di eliche di ricambio e il caricabatterie dello stesso drone e un cacciavite che ci serve appunto per la piccola manutenzione ovvio per montare eliche nuove andiamo ad aprire questa saccoccia comoda ed ecco qui il nostro drone blu elettrico marchiato potensic con il tasto di accensione qui in alto un drone che è un drone pieghevole dotato anche di una fotocamera dove pieghevole in stile non voglio bestemmiare il rimini però eccolo qui molto bello sta praticamente in una mano il senso di questo drone che comunque molto comodo perché lo si può appunto portare in giro in maniera anche di una tasca e poi non ha il telecomando infatti si comanda interamente con il telefono adesso lo proverò vediamo un po se è bello anche giocarci oltre che a vederlo andiamo inserire la batteria e vediamo di accenderlo ok batteria che si incastra così perfetto accendiamolo le luci cominciano a lampeggiare ebbene non fa nient'altro adesso devo scaricare l'app sul telefono e per vedere un po di farlo svolazzare niente adesso la proverò e vi farò sapere come va ciao 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 ciao